Ciao, sono Antonio Provitina e amo follemente il settore dello spettacolo. Il trafficante d'amore è una spensierata storia d'amore che racconta di un uomo che impara ad amare e a conoscere ancora meglio il sentimento profondo dell'amore grazie alle donne. Quindi ogni donna è abbinata a un senso, per ogni capitolo una storia a sé. I miei obiettivi fondamentalmente era raccontare, poi pian piano nella scrittura mi sono indentrato e ho preferito raccontare il bello. Come copertina il mare, come mai? Guarda, perché semplicemente il racconto vive su una battiglia dove Ettore vede passare tante donne e ad ogni donna la sua immaginazione riporta il ricordo della sua donna avuta. Se leggerete il trafficante d'amore, viaggerete di conseguenza, perché è ambientato in tanti posti diversi, tra il Messico, l'Africa e la splendida Italia ovviamente, perché ogni capitolo della storia di Ettore è appunto ambientato in varie situazioni del globo. Già un regista ci ha chiesto la sceneggiatura e noi praticamente ci stavamo già lavorando, ci stiamo già lavorando perché il trafficante d'amore, spero, possa diventare non solo un libro, ma anche un film, è un sogno e i sogni non devono rimanere nel cassetto, così mi piace dire. Lo potete trovare su Amazon, il trafficante d'amore su Amazon.